una giornata qualunque presso un rifornimento di metano in provincia di cosenza come vedete il prezzo è 0 83 per chilo considerate che una macchina di questo tipo a metano notate il dettaglio riesce a percorrere circa 500 chilometri con 21 euro questa è una delle tante interviste a senso unico così definite di tele radio cinghiale meritate gente meritate la regia di questo servizio è di salvatore pedalino le riprese sono sempre offerte da tele radio cinghiale